Saturno, in alto, regge una falce che simboleggia l'aspetto della vita da lui incarnato. Necessariamente, la materia grezza dovrà varcare la soglia della morte. Il fatto che Saturno, rappresentante del principio solido, recchi anche il caduceo del suo avversario volatile Mercurio allude al fatto che, all'interno dell'opera, tutti gli opposti collaborano misteriosamente. Mercurio incendia nella provetta il drago primordiale e gli conferisce le ali, cioè fa sì che cominci ad evaporare. Il sangue con cui lo nutre è lo spirito universale, l'anima di tutte le cose.